e c'è il tiro, è un gol pesante, sono a più uno sugli avversari il pronostico della vigilia parlava di match combattuto, equilibrato ma non è esattamente quello che stiamo vedendo eh già Pierluigi, questa squadra ha saputo costruire più palle e gol, più in porta, trovando come in questo caso